Tanti investimenti, lo sappiamo tutti, lo ha detto ben Sussi, perché dovremmo dirlo prima o poi che la scuola infatti fosse di maggiore determinazione di quanto non c'è stato fatto. L'invasione oggi non conta ancora a te. La città metropolitana da che parte la vogliamo pigliare? Da che parte la vogliamo pigliare? Se non da voi? Tanti ne raccordiamo. E non voglio dire che l'investimento è di crescita e il cuoco è sicuramente uno di questi.